è incredibile ma tra electronic cards e nintendo finisce sempre allo stesso modo nintendo annuncia una nuova console electronic cards promette un supporto senza precedenti e per la miseria dice sempre così senza precedenti e poi questo supporto improvvisamente si interrompe sul nascere o sul crescere a seconda dei casi perché succede questo perché electronic cards alla fine non riesce mai a sfondare in casa nintendo è strano perché a volte l'impegno ce l'ha messo per esempio nell'epoca wii nonostante anche lì a un certo punto tirò improvvisamente i remi in barca eppure ogni volta invece electronic cards dice la stessa cosa e lo ha detto anche in occasione dell'arrivo di switch sulle console nintendo vendono soltanto i giochi nintendo e la cosa era vera ma lo era un tempo oggi su switch non è più così bethesda sta facendo degli affaroni su switch anche ubisoft tu invece electronic cards sei lì come una mellona bloccata invece dovresti provarci magari ecco approfittare dei prossimi mesi e magari anche del 2021 cercando di recuperare tutto ciò che il tempo perso ecco tutto ciò che tutte le occasioni che fino ad oggi non hai saputo cogliere sappiamo però per certo oggi che questo sta per succedere quindi le cose stanno per cambiare in realtà su switch erano cambiate fin dal principio perché dopo la presentazione switch per la prima volta electronic cards non promise nessun supporto con switch mise subito le mani in avanti quindi non c'è stata nessuna brutta sorpresa strada facendo però appunto le cose sono destinate a cambiare lo sappiamo per certo perché tutto ciò tutte queste informazioni arrivano dalle ultime riunioni electronic cards in vista del periodo in cui si chiude l'anno fiscale in qualche modo bisogna sia tirare una linea sotto quello che è stato fatto fino ad oggi e sia proporre agli investitori quelli che sono i piani futuri e i piani di electronic cards dei prossimi mesi prevedono diverse uscite su su nintendo switch quindi non uno non due non tre ma più giochi non espressamente dedicati alla console nintendo questo non possiamo dirlo ma comunque giochi di alta fascia che arriveranno anche sull'ibrida che tanto ci sta facendo impazzire perché effettivamente nintendo switch oramai lo possiamo dire è un enorme successo fortunatamente almeno di un gioco sappiamo titolo e data di uscita 19 giugno è la data di uscita naturalmente e il titolo è burnout paradise remastered quindi sappiamo già che il primo gioco ad arrivare su switch firmato electronic cards sarà una remastered ma ce ne potrebbe essere un'altra perché le notizie che parlano di un remastered di mass effect attualmente in lavorazione si rincorrono sempre più velocemente tanto da risultare oramai piuttosto credibili se sovrapponiamo le notizie vere e proprie ufficiali a questi rumor è facile capire che le possibilità di vedere mass effect non sappiamo se soltanto il primo gioco o l'intera trilogia sarebbe fantastico anche su nintendo switch ma le buone notizie per gli utenti nintendo potrebbero non finire qua anzi sappiamo per certo dai report ufficiali che non finiranno qua ci sono altri giochi in sviluppo per libri da nintendo molto probabilmente si tratta comunque di altri di altre versioni remastered non parliamo di giochi pensati specificatamente per questa console ma comunque visto che il supporto prima era pari allo zero ci va più che bene tra questi potrebbe esserci per esempio incrociamo le dita anche il ritorno di uno dei most wanted degli utenti ovvero dead space un dead space remastered giocabile anche in portabilità sarebbe davvero un sogno anzi un gran bell'incubo e chissà se questa occasione non possa essere sfruttata anche per riportare fifa su nintendo switch dopo la debacle dell'ultimo episodio cosa è successo perché la storia di fifa ve la voglio raccontare perché rappresenta meraviglia il motivo per cui il pubblico nintendo non ha fiducia di electronic cards ad inizio generazione hanno tirato fuori un buon fifa per switch una legacy edition ma perfettamente funzionante l'anno successivo nonostante le vendite piuttosto incoraggianti si sono limitati a proporre lo stesso identico gioco ma con le rose aggiornate allo stesso identico prezzo di lancio e questo è in qualche modo vergognoso speriamo ecco che questo rinnovato possibile supporto sia anche un'occasione per chiedere scusa per quel che è caduto con fifa su nintendo switch comunque le buone notizie che riguardano electronic cards non finiscono qua perché stando a questi stessi report ufficiali sembra che molti dei giochi electronic cards potranno essere upgradati alla versione next gen in maniera del tutto gratuita sia su piattaforma xbox e sappiamo che questo questo passaggio di generazione soft in qualche modo microsoft lo ha già istituzionalizzato con un nome vero e proprio ma non sapevamo in che modo volesse muoversi sony ora tramite questi report sappiamo che electronic cards sembra effettivamente avere la possibilità di proporre lo stesso affarone a tutti gli utenti che da playstation 4 passeranno a playstation 5 per il momento da casa electronic cards è tutto io sono francesco serino questo è multiplayer continuate a seguirci attraverso tutti i nostri canali twitch sito web e youtube alla prossima